Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video Prosegue questa nostra avventura con l'amico Michael, l'intrattenitore mentale E oggi, come vedete, sponsorizziamo creme Ma io non già la faccio, prosegui tu per favore Che è sta cosa? Questo è il mentalismo questo? Esattamente sì, andremo a spiegare un principio impromptu per fare un qualcosa Cioè, se sei al tavolo, magari ti chiedono Dai, fammi qualcosa con degli oggetti, dai, sono curioso, qualcosa E quindi è normale che ognuno si porta Cioè, andiamo a vedere Abbiamo mille oggetti tipo cubi, cubi di Rubik, mazzi di carte, no Anzi, cubi di Rubik, se ci sono, li mettiamo anche in mezzo Ti dirò di più, così Magari lascia lì, lascia lì Allora, se sei pronto, io avrei già incominciato perché mi piace un sacco Io questa è una cosa che utilizzo assolutamente Faccio molto spesso appunto anche i tavoli Allora, per tutto il tempo dell'esibizione Io starò girato di là Quindi io non vedrò assolutamente niente Quindi, io mi giro Allora, Ale, hai di fronte a te tre oggetti Sì Che abbiamo visto prima Ovviamente io so quali sono, ma si possono prendere anche altri tre Io ho preso questi Così a me ragazzi mi uccidi Comunque, lasciamo bene Allora Ok, mescola pure gli oggetti Ok Quando è fatto me lo dici Sì Ok, fatto? Fatto Ok, io non posso sapere adesso dove sono gli oggetti Giusto? Ok Ti chiedo di scambiare adesso la forbicina con l'oggetto che è immediatamente alla sua destra Oppure, ascoltami bene Se non c'è niente alla sua destra Scambia il laser con l'oggetto che c'è alla sua destra Ok Fatto? Sì Ora A caso Scambiamo la pomata con l'oggetto che è alla sua sinistra Oppure, se non ha niente Scambia il laser con l'oggetto che c'è alla sua sinistra Sì Fatto? Sì Ok Ora hai una sistemazione di fronte a te Io ovviamente non posso sapere nulla Però ti chiedo di prendere il primo oggetto che si trova alla tua destra Di prendere e di metterlo in tasca Sì Fatto? Sì Ora qua entro in gioco altri due spettatori Che facciamo il cubo di Rubik piccolino Sì Risotto o scombinato? Quello scombinato lo chiameremo spettatore 2 Ah ok E quindi due spettatori Due spettatori Uno e due Uno e due Sì Allora Al secondo spettatore Hai l'oggetto più grande che è rimasto sul tappetino Sì E ovviamente al terzo L'ultimo Ok Ci siamo fin qua? Sì Ora Ritorniamo all'inizio Avevi tre oggetti di fronte a te Li abbiamo mischiati Io non potevo sapere nulla No Ho mischiati io? Sì Appunto Tu ne hai mischiati Io non potevo sapere Poi alla disposizione Abbiamo fatto dei cambi Sì E poi ti ho chiesto a te Di mettere un oggetto in tasca Sì Giusto? Sì Tocca un po' il mio dito Non ti sei tagliato le unghie? Ovviamente sì Però Ho mai dato una scosticina Non lo so Però Dacci ancora un piccolo taglietto qua Con l'oggetto che è in tasca Che è la forbicina Va bene Giusto? Sì E la forbicina Però ne sono rimasti due Sì In gioco Sì Secondo me Il cubo di Rubik piccolino Il primo Quello Quello mischiato Sì Quello mischiato O vuoi che ti dico quell'altro? Secondo spettatore è quello Col cubo mischiato Ok Giusto? Sì Secondo spettatore Ha La pomata Giusto E l'ultimo per forza Laser Giusto Sì Interessante Interessante Questo è in pronto Sto cercando di ragionare Sto cercando di ragionare C'è una sequenza sicuramente Però Però tu all'inizio le mischi come vuoi Sì Le dimensioni per questo effetto Sono importanti Perché Solo per questo effetto Contano Dimensioni Contano Schimper ragazzi Lasciamo in descrizione Vediamo? Sì Allora Veramente Principio bellissimo Immagino Che non per forza dovete avere Una crema a mani Assolutamente no Non per forza dovete avere Una forbigina Assolutamente no Almeno Piunque ti dai le unghia E Usare una moneta Una penna Che manco funziona Un cubo di Rubik Quello che vuoi L'importante È che i tre oggetti A differenza Non devono essere tutti uguali Ma devono essere Uno In scala Piccolo Medio Grande Perché se avete sentito Io ho detto L'oggetto più grande dopo Sul finale Perché il principio Permetterà sempre E lo vedremo con gli esempi Di portare L'oggetto più piccolo Sempre sulla destra In ogni situazione In ogni situazione Io qua Me l'ero segnato Lo portiamo un attimo Più avanti In modo tale Che Non si vedrà mai Non si vedrà mai Perché è scritto Veramente in piccolissimo Magari fanno Un fermo immagine Non potete scriverlo Io tanto Come se lo detassi Praticamente Allora Lui mischia Gli oggetti E noi non sappiamo niente Partiamo anche dal fondo Lo mettiamo proprio a sinistra Come abbiamo detto Andrà sempre di qua A destra La formula è questa Scambiate In questo caso Ho detto forbicina Perché lo so Che è l'oggetto più piccolo Immediatamente Con l'oggetto più a destra Quindi in questo caso C'è La torcia Oppure Perché noi non sappiamo Come li ha messi Oppure Quindi se non fosse stato Questo caso Il laser Con l'oggetto Alla sua destra Ma in questo caso C'era Quindi va a finire qua Ora Scambia la pomata Con l'oggetto Che è la sua sinistra Sì Comunque proverò A scriverle in impressione Queste robe lì Perché non si vedrà mai Esatto La pomata Con l'oggetto Oppure Sempre così La formula è sempre qui Oppure Scambia il laser Con l'oggetto Alla sua sinistra In questo caso Mi ha fatto la pomata Perché un oggetto C'era Come vedete Va a finire Sulla destra E così In ogni caso Potete provare Quindi la situazione finale Sarà sempre questa Sarà sempre che va a finire a destra Con due passaggi Sì E basta E qui Siccome lo sappiamo Quindi siamo già un passo avanti Rispetto al nostro spettatore Io dico Ale L'ultimo oggetto Che è alla tua destra Mettilo Via Quindi automaticamente Tu sai che l'oggetto È per forza La forbicina La cosa interessante Delle magie Che vediamo con Michael E che essendo lui fa Delle magie al tavolo Questi sono degli oggetti Che effettivamente Ognuno Magari ogni spettatore Potrebbe avere In mano Un orologio Una cosa Un orologio Quindi davvero interessante Non il classico gioco di magia Con le carte Ma anche sulla tavola Insomma trovi Ho voluto fare questa parentesi Perché mi dà proprio Di effetto al tavolo Con tre persone In questo caso Esatto Prendi una pallina La rotoli Poi usi la posata Il bicchiere Quindi Ritornando Ale avrà messo Questo in tasca Io lo so E ovviamente Ne rimangono due Ecco che qui scatta Il principio Piccolo Medio Grande Perché per forza Adesso non andremo A forzare questo Infatti gli dico Ho fatto entrare in campo Secondo spettatore E terzo spettatore Ok E gli dico Al secondo Dipende il più grande Lo so che andrà questo E il terzo E per forza questo E quindi poi Sta a voi Potete rivelare Subito il primo E gli ultimi due In automatico Insieme O se no Parti dal terzo Ma sai Chi è andato cosa O addirittura Poi proprio Chiedere Dimmi tu Cosa vuoi che ti dico E ti dici Il terzo Ok il terzo Secondo me Ha il laser Tutto qua Interessante Chiaro Alla portata di tutti E impronta Io l'adoro Lo faccio E tra l'altro Ci tengo a precisare È anche un po' Una base Di un gioco Che tu hai portato Sul canale Se ne ho fatti Delle magie Anche io con gli oggetti Ti ricordi il gioco Che ti dissi Dei cinque oggetti Sì Ecco Diciamo che Prima di questo Prima di quel gioco Lì C'era questo principio Ho capito Perché le carte Danno sempre Quelle cose Ma magari le impalma Magari le Sono degli oggetti Che possono dare Gli spettatori È il bello del mondo Che pratica Si vede L'esperienza sul campo Che ti permette Quindi come Per ogni video Vi chiediamo Di supportarci Con un like Di iscrivervi Se non siete ancora iscritti E questa secondo me È una perla Interessante davvero Che Può essere utile Appunto Da mettere nel proprio repertore Nel proprio repertore Al tavolo Ragazzi Vedete voi Nient'altro da aggiungere Se non Grazie Michael Grazie a te E noi adesso Subito registriamo Il terzo video